San Valentino con il cuore di grazia trionfa l'amore. Si è conclusa ieri l'iniziativa del Corpo Gav a Torre del Greco per la raccolta di cibo per cani e gatti meno fortunati. Nel piazzale della chiesa di Sant'Antonio sono stati tanti cittadini torresi ma anche quelli provenienti da Napoli e provincia che hanno partecipato donando crocchette, scatolette, vecchie coperte. Giovani ed anziani hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Soddisfatta la presidente Raffaella Belfiore che ha ricordato con grande commozione l'amica Grazia Raia, recentemente scomparsa. Grazia ci ha lasciato un grande dono, quello dell'amore, e questa iniziativa ne è stata un'ulteriore conferma. A breve l'associazione organizzerà un seminario per guardie zoofili e ambientali volontarie, con argomenti che toccheranno anche gli aspetti giuridici di questa figura. Tutto il cibo raccolto sarà distribuito ai volontari che provvederanno ad alimentare i randaggi del territorio e a prendersi cura di loro. Non è mancato un ringraziamento alla consigliera comunale Carmela Pomposo.